Domani arriva l'Este allo Stadio Rocco, formazione della provincia di Padova attualmente a metà classifica. Oggi la Triestina si è allenata allo Stadio del Paron davanti ai tifosi Rosso Labbardati. Il gruppo guidato da Andreucci è concentrato e pronto alla sfida di domani. Mauro Milanese ha sottolineato l'importanza di mantenere il secondo posto e di fare bella figura all'interno delle mura biche. Assolutamente in casa abbiamo fatto più fatica che in trasferta, però l'ultima partita abbiamo vinto 2-0 in casa e poi abbiamo vinto 5-2 in trasferta. Siamo in buon momento, però bisogna confermarlo perché sappiamo che le squadre qua non vengono a giocare a viso aperto e quindi questo ci obbliga a cercare di sbloccare il risultato prima possibile. Quando sblocchiamo il risultato secondo me siamo un'altra squadra e poi ci divertiamo. Poi il discorso play-off, ancora non il tutto definito, ma sul quale Milanese ricorda l'importanza del miglior piazzamento durante la stagione regolare. Ancora il regolamento non è venuto fuori, però la sensazione è quella di peggiore, è quella che può essere che la seconda gioca in casa, una gara unica contro la quinta e contro la terza con due risultati su tre, quindi è importantissimo avere secondi, è importantissimo anche secondi in campionato per avere questo vantaggio e poi se non perdi il play-off, oggi la fotografia è stata la prima e seconda d'Italia, quindi con il 99% possiamo andare su, quindi è importantissimo non perdere posizioni adesso e arrivare in forma al play-off.